Non si ferma la diffusione del contagio da coronavirus in Irpigna e secondo gli ultimi aggiornamenti dell'Asda di Avellino attualmente i comuni interessati dall'emergenza sono diventati 43 con 222 casi e 23 decessi. A guidare la tragica classifica c'è sempre Ariano che fa registrare ben 89 pazienti che hanno contratto il Covid-19, dei quali 10 non ce l'hanno fatta. A seguire con 15 casi c'è Avellino, mentre per quanto concerne le vittime già accertate troviamo Flumeri con tre anziani che hanno perso la vita e con due Trevico, Villanova e Venticano. Dieci contagiati ciascuno poi nei comuni di Mercogliano, Mirabelleclano, Flumeri e Solofra, mentre sono sei i nuovi comuni entrati a far parte di questo drammatico elenco che assomiglia sempre più ad un bollettino di guerra. Da qui la mappa che si fa sempre più ampia coprendo ormai quasi la metà del territorio provinciale e l'aumento dei contagi si riflette anche sull'accoglienza dei pazienti nelle strutture al Moscati di Avellino, seconda struttura ospedaliera Covid della Campania dopo il Cotugno di Napoli, fino a ieri notte non c'erano posti letto liberi e tre pazienti arrivati al pronto soccorso non sono stati assegnati ad un reparto, mentre per uno, in condizioni più critiche, è stato disposto il ricovero in terapia subintensiva. E così anche i tamponi sono stati effettuati in una sala medica del presidio di emergenza, alimentando l'attenzione del personale del reparto che teme un congestionamento, visto che i pazienti affetti da coronavirus sono 82. Una possibilità per superare l'impasse potrebbe essere utilizzare i primi posti letto attrezzati nella Palazzina Alpi, che sarà dedicata alle cure per il Covid-19, ma è ancora in corso di allestimento. Per fare questo ci vorranno ancora alcuni giorni. Intanto si susseguono gli appelli delle autorità locali a stare a casa, un invito che non è stato seguito da una donna di Solofra, bloccata dopo un breve inseguimento dalla Polizia Municipale a Minori. La signora, nonostante i divieti, non aveva voluto rinunciare ad una domenica in costiera amalfitana.